Nelle difficoltà economiche delle famiglie la scuola rappresenta sempre un costo molto significativo ma spesso tra le spese per l'istruzione può servire l'aggiunta di quelle destinate alle ripetizioni nel caso in cui sia necessario un sostegno, magari anche di breve durata un costo che di certo scoraggia molte famiglie già in crisi per un diritto, quello allo studio che sembra sempre più un privilegio e così SEL organizza a Pescara un servizio di sostegno gratuito per gli studenti. Per Sinistra Ecologia e Libertà Pescara l'accesso alla conoscenza e alla cultura è indispensabile per poter interpretare correttamente questo mondo. Noi ci operiamo attraverso degli insegnanti volontari che offrono il loro tempo gratuitamente per dare ripetizioni gratuite e individuali agli studenti che ne hanno necessità in Via Piave 129 per iscriversi, l'iscrizione è ovviamente gratuita, per iscriversi basta andare sul sito selpescara.org e contattare la nostra segreteria e i ragazzi che sono in condizioni di bisogno potranno soffrire di questo servizio in maniera gratuita. Un servizio già attivo dunque rivolto a studenti prevalentemente delle scuole superiori con la possibilità di ricevere sostegno sia nelle ore del mattino che in quelle del resto della giornata il tutto grazie alla disponibilità gratuita degli insegnanti che hanno risposto all'appello di SEL. Questo servizio è rivolto prevalentemente ma non esclusivamente ai ragazzi e alle ragazze che fanno le scuole superiori ma anche agli adulti che fanno corsi serali per esempio.